Ehi ragazzi, come state? Io sono Mattia Brugnone 0.9 e oggi siamo in un nuovo video con Fino Mobile Come vedete sono 81 di Vesnì per far vedere la mia squadra che è Hazard 85, Aguero 86 che ho comprato e Hazard invece l'ho preso dei piani Centrocampo che è il più scorso della mia squadra che è Tony Cross e Cicci 80 e Scorci e Aquilani e Cicci 76 Allora, in difesa che è la più corte dello squadro, Asia, Asa, Sidipè, The Young che non uso, terzino sinistro che l'ho vinto in quel pacchetto che ci ha regalato Ta, DC, 79, poi Ottamendi, 82, DC e Christens, 78 e Atia, 76, Beck E poi ho il portiere che l'ho preso dei piani, si chiama Oblock, portiere 89, che fra un po' lo metto a 90 E vi lascio il link e la descrizione, come farlo Allora Come vedete sono arrivato quasi, sono arrivato quasi a sport 1 Allora Ok, questo è una nota stranissimo ma Di tifosi più di, quindi vediamo Allora ragazzi, iniziamo subito Tenendo le rose a posto Allora Allora, ok Vediamo che squadra Lui è un 85 ed è fortissimo per me, a posto Lui è fortissimo Questo mi batte ragazzi, questo è forte Questo è fortissimo 85, forte Allora squadra che mi batte, sicuro Allora Hazard Aguero, scusate Aguero ve lo consiglio, è troppo forte Aguero, bicicletta, si senta a tutti Aguero Ancora lui Aguero Aguero sbaglia qui Qui che la leva Isco Tira Ancora ancora un bisogno, è strano questa cosa ragazzi Allora Isco Ma papìa che pallone ragazzi Isco qui Troppo forte Manco il suo piede qua a sinistro Aguero qui Aguero Lui tra che decisegna Fa il 2-2-1 Poi traversa Aguero Peccato ragazzi Ma che gioco d'affatto Lui intanto stiamo 2-1 per lui Pericoloso Aguero 3-1 ragazzi No, mi sa che è persa questa Aguero però segna 3-2 Non lo so ragazzi 40 secondi E appunto Questo è 2-1 Ragazzi Come è forte Ragazzi Una è forte Vediamo Aguero che fa Vediamo se Peracolo lo fa Aguero si volta tutti Tira E goal 5-3 Aguero Ragazzi Se è segno io Se è inapro a lui Quindi Questa è persa Mi sa Questa è persa ragazzi Mi sa che questa è persa La Veronica Guardi Aguero Che caccio ragazzi Porca attenda 9 secondi Ottima occasione Non ce la faccio tanto ragazzi Non ce la faccio Allora ragazzi Mi sa che è l'ultimo Che è l'ultimo Va bene Vaffanculo Allora ragazzi Come vedete Questo è 260 160.000 allora allora andiamoci a fare un'altra partita